buongiornissimo oggi parleremo delle piattaforme di affitto breve comunemente chiamate anche ota ovvero online travel agencies quindi agenzie viaggi online le ota sono fondamentali per questo business rispetto a quanto qualcuno possa credere ovvero a mi creo il mio sito web e ottengo prenotazioni da lì no dimenticatevelo è fondamentale lavorare con le ota sino qualche anno fa in totale onestà ho sempre raccontato di airbnb booking e vrbo ma consigliavo di lavorare principalmente con airbnb da qualche anno a questa parte reputo booking una piattaforma fondamentale con la quale lavorare partiamo da un presupposto perché reputavo airbnb l'unica piattaforma con la quale conveniva lavorare e perché escludevo booking e perché ad oggi questa cosa è cambiata beh perché airbnb è l'unica piattaforma che ti dà un'assicurazione omnicomprensiva che non ha bisogno di periti non ha bisogno è molto diciamo autogestita come assicurazione in ambito affitto breve quindi un ospite mi fa un danno gli mando la foto del danno gli allego un preventivo airbnb paga letteralmente funziona così mentre booking dall'altra parte ha un sistema di solo rc quindi effettivamente è un'assicurazione che ti copre solo se succede qualcosa di grave all'ospite se l'ospite ti rovina il piano cottura ti arrangi a quel punto ci sono ovviamente tutta una serie di strategie con le quali si possono recuperare i soldi senza andare a denunciare l'ospite le spieghiamo ovviamente dentro bm academy però sono comunque funzionamenti diversi rispetto all'avere veramente una piattaforma che fattura miliardi che ti paga in pochissime ore quindi ecco perché abbiamo sempre preferito airbnb oltre a ciò devo essere onesto anche l'applicazione di airbnb è più semplice da utilizzare rispetto a quello di booking l'assistenza di airbnb funziona meglio e le commissioni sono leggermente più basse dall'altra parte però negli anni le prenotazioni da booking iniziano ad essere diciamo più presenti quindi rappresentano una fetta più grossa della revenue del fatturato dei miei immobili talvolta alcuni immobili sembrano funzionare meglio su booking rispetto ad airbnb ed ecco perché abbiamo mantenuto ovviamente all'interno della nostra accademia di formazione tutta una serie di moduli su booking e addirittura siamo andati poi ad aggiornarli a migliorare il tutto quindi ad oggi chiunque entra in bm academy trova in ugual modo spiegato sia airbnb che booking con relativi pro e contro di ognuno di esso quindi fatta questa doverosa precisazione perché a livello di comunicazione spesso menzioniamo solo airbnb ma in realtà lavoriamo molto anche con booking andiamo a capire perché sono fondamentali queste otta queste piattaforme sono fondamentali innanzitutto perché ci permettono di lavorare anche qui ad investimento zero che una parola a me molto cara come avrete potuto notare io adoro il fatto che si possa fare business senza necessariamente investire ma ciò non significa che queste piattaforme sono delle ollus non sono un ente benefico queste piattaforme comunque guadagnano ma quando guadagnano non quando pubblichiamo un annuncio cioè non è che devo pagare 10 euro per pubblicare l'annuncio ma guadagnano dal momento in cui io ottengo una prenotazione quindi se io pubblico un immobile non ottengo mezza prenotazione non pago niente se ottengo 10 prenotazioni pagherò una provvigione su queste 10 prenotazioni provvigione di airbnb orbita torno al 15 per cento circa se vi accollate tutti i costi voi oppure poi ci sono delle metodologie dove un po pagate voi un po paga l'ospite ma questo secondo me un po disincentiva il fatto che uno vi scelga e a quel punto la commissione orbita diciamo dal 3 al 5 per cento poi ci sono le variabili dove c'è anche da pagare l'iva però di norma diciamo airbnb gli scaglioni sono 3 4 5 e 15 per cento mentre booking la commissione può aumentare o diminuire in base ad alcune diciamo scelte che potete fare quindi se volete più visibilità booking si trattiene più provvigione però orbitiamo su un 18 20 per cento di provvigione da booking questo punto uno potrebbe dire ludovico ma io vado tutta la vita su airbnb e chi se ne frega di andare su booking se ha una provvigione così alta non mi conviene quello che io consiglio sempre di mettere comunque un prezzo più alto su booking maniera tale che io vado a compensare effettivamente questo diciamo squilibrio che c'è a livello di provvigione nei confronti della piattaforma olandese perché booking è olandese mentre airbnb è americana detto ciò come dicevo all'inizio praticamente nessuno affitta con un proprio sito web personale che poi può essere fatto a determinate condizioni ha senso solo secondo me se avete tanti immobili bene o male tutti nella stessa zona eccetera 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 ma lavorando con queste piattaforme come airbnb e booking e c'è anche vrbo vrbo chiamatelo come volete ma veramente ne arriva una all'anno di prenotazione non abbiamo bisogno di ads quindi lavoro con queste piattaforme non devo fare pubblicità facebook marketing instagram marketing eccetera 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 non devo fare sales page non devo fare email marketing non devo preoccuparmi che ah guarda il sito web oggi non funziona devo chiamare webmaster no tutte queste cose qui lavorando con queste piattaforme non devono essere fatte e io oggi che ho esperienza pluriannale potrei anche decidere di investire in questo tipo di struttura ma una persona che parte con questo business con una casa due case tre case andare a investire migliaia di euro nella realizzazione di un sito web dove poi devi starci dietro cookie policy gdpr eccetera 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 è molto complicato e un'altra cosa è che poi in realtà la forma non imprenditoriale presuppone il fatto che voi proprio non abbiate un sito web quindi se tu operi senza partita iva che uno dei grandissimi vantaggi di questo business di cui abbiamo parlato più e più volte se operi senza partita iva non puoi avere un tuo sito web perché quello significherebbe essere invece imprenditoriale al contrario puoi pubblicizzarti sui siti già presenti come airbnb booking volendo anche subito.it che secondo me non c'entra assolutamente nulla con il nostro business c'è qualcuno che lo fa ma io lo sconsiglio caldamente perché la qualità della clientela su subito.it è bassissima c'è sempre il rischio di truffe di rotture di scatole mentre con airbnb booking si sta tranquilli perché si sta tranquilli anche perché se succede qualcosa un ospite avanza un qualche tipo di richiesta assurda noi abbiamo le piattaforme che fungono anche un po diciamo da giudice cioè se un ospite pretende di cancellare il giorno prima di arrivare e lo fa su airbnb airbnb non lo rimborsa perché ho dei termini di cancellazione magari che appunto impongono il fatto che lui non venga rimborsato mentre se uno ha pagato col bonifico e voi non lo rimborsate magari inizia con nati denuncio l'avvocato di qua di là vi ritrovate a gestire delle rotture di scatole incredibili piuttosto che come dicevo prima succede un danno con airbnb posso rivalermi con booking ci sono altre metodologie per rivalersi col bonifico bancario è veramente difficile andare a bonifico paypal con tanti quel che l'è è difficile andare a appunto riscuotere eventuali risarcimenti danni quindi le piattaforme sono le nostre migliori amiche nei gruppi facebook di host airbnb italia insomma tutti questi questi gruppi da certi punti di vista molto utili devo essere onesto spesso le persone demonizzano queste piattaforme ah perché booking chiede tantissimo io odio le piattaforme io boicotto io boicotto se non sapete lavorare con le piattaforme il problema è vostro il problema non è della piattaforma cioè airbnb e booking hanno milioni di utenti hanno milioni di host in tutto il mondo quindi se voi avete problemi con quelle piattaforme probabilmente perché voi non sapete lavorare quindi se tu che stai guardando questo video hai problemi con airbnb o hai problemi con booking probabilmente perché non hai la giusta formazione non hai sufficiente esperienza per lavorare bene ma venire a dire che airbnb o booking rovinano il business è errato perché in realtà se io ho generato i guadagni che ho generato e se migliaia di persone che si sono affidati a bmb academy fatturano le cifre che fatturano è proprio grazie a airbnb booking quindi ci tengo a specificare che queste piattaforme sono una vera e propria manna dal cielo per noi e oltre a questo piattaforme come airbnb e booking hanno letteralmente decine o centinaia di milioni di utenti che quotidianamente vanno ogni giorno su queste piattaforme a prenotare il loro soggiorno perché non è che quando uno prenota il mio bmb parte col presupposto di voglio prenotare il bmb di ludovico in quella via con quella vista fa una ricerca su queste piattaforme imposta dei filtri ad esempio voglio l'aria condizionata wifi eccetera e poi compare il mio annuncio quindi se quella persona arriva a prenotare il mio annuncio è in parte perché la piattaforma è famosa investe in marketing eccetera poi in parte perché io grazie alle mie competenze ho creato degli annunci che sono accattivanti e che invita la gente diciamo a prenotare i miei annunci e non quelli altrui però diciamo che se io facessi semplicemente un annuncio bellissimo pubblicato sul mio sito sconosciuto probabilmente non otterrei prenotazioni quindi è fondamentale capire che bisogna avere padronanza di queste piattaforme ed è fondamentale a meno che non siete super influencer con milioni di follower che fate una storia riempite la casa per un anno va bene ma non penso sia il vostro caso a quel punto è fondamentale lavorare con queste piattaforme perché ripeto ancora una volta hanno centinaia di milioni di clienti in tutto il mondo se non miliardi probabilmente a questo punto e io stesso lo dico quando prenoto vado su Airbnb vado su booking quindi è importantissimo detto ciò ho detto non bisogna investire in marketing ma bisogna fare marketing sono due cose diverse investire in marketing significa deve esserci un esborso economico e questo noi non lo dobbiamo fare ma dobbiamo comunque saper fare marketing su queste piattaforme per nostra fortuna non è un marketing a pagamento è un marketing composto da il giusto titolo la giusta descrizione la giusta disposizione delle foto creare un annuncio che sia graficamente accattivante andare incontro alle esigenze degli ospiti cercando di capire di che cosa può aver bisogno uno durante il soggiorno differenziarsi dalla concorrenza e tanto altro ancora quindi marketing sì marketing a pagamento no poi come dicevo all'inizio in realtà booking ti permette di fare marketing a pagamento ma non ti dice investi 100 euro in budget pubblicitario ti dice dammi una percentuale un po più alta e io spingo di più il tuo annuncio è una cosa che io personalmente non faccio mai perché i miei mobili sono pieni senza fare questo genere di lavoro chiamiamolo così anche perché se sono in sublocazione chiaramente vado ad erodere i miei margini se sono in property management guadagno meno ancora magari una persona lo fa proprio perché non sa lavorare con il marketing organico perché noi poi quando parlo di marketing ad investimento a zero significa essere organici cioè io senza spendere un euro riesco a colpire l'attenzione di quella persona lì mentre se non so lavorare in maniera organica è ovvio che magari avrò una propensione a pagare booking di più e quindi lo stesso risultato che potrei ottenere gratuitamente avendo le giuste competenze lo devo ottenere pagando una provvigione più alta alla piattaforma scusate se ogni tanto guardo a destra a sinistra faccio un monitor enorme da una parte vedo la mia faccia da una parte vedo gli appunti da una parte ho la fotocamera e posso sembrare un attimo strabico detto ciò qui gli appunti che mi sono fatto per questa per questa lezione perché si può lavorare di marketing organico perché ci sono degli algoritmi ben specifici che ovviamente noi da anni studiamo perché poi variano anche e ad esempio ci siamo resi conto che la maggior parte degli annunci su airbnb non ha il filtro frigorifero ora è ovvio che il 99 per cento delle case presenti su airbnb il frigorifero ce l'ha ma una semplice dimenticanza come questa fa sì che se un potenziale ospite mette tra i filtri di quando cerca casa frigorifero la vostra casa non compare perché voi il filtro frigorifero non l'avete spuntato quindi in parole povere voi il frigorifero potete averlo potete averlo fotografato può essere il frigorifero migliore del mondo ma se voi non avete spuntato il filtro frigorifero e l'ospite quando fa una ricerca che è normalissimo inserisce il filtro frigorifero il vostro annuncio non compare potete avere anche il frigorifero col televisore integrato più bello e più costoso del mondo ma voi non comparite quindi gli algoritmi funzionano sia filtri quindi più filtri io os riesco a spuntare più probabilità ho di comparire ma poi se mi compaiono altre cento case io a quel punto devo lavorare di marketing organico quindi il mio annuncio deve in qualche modo catturare l'attenzione dell'ospite rispetto agli altri e per assurdo io talvolta ho case esteticamente peggiori rispetto ai miei competitor ma ho dei numeri migliori perché a livello di annuncio riesco a catturare di più l'attenzione quindi catturare l'attenzione non significa necessariamente avere la casa arredata armani casa o i leoni d'oro dentro no significa valorizzare quello che abbiamo ma soprattutto a livello comunicativo e percettivo sapere colpire l'attenzione del potenziale ospite e proprio per questo motivo è molto importante al giorno d'oggi dove comunque la concorrenza sicuramente più agguerrita rispetto al passato andare a distinguersi perché altrimenti ripeto l'annuncio non viene prenotato infatti spesso le persone mi dicono ma ludovico ma io la casa la posso pubblicare su airbnb anche senza il tuo corso bene prego fallo fammi sapere poi che risultati ottieni oppure tante persone mi dicono io già lavoro su airbnb e booking ma le cifre di cui parli tu non riesco a generarle ecco perché non riesce a generarle perché l'opportunità è la stessa per tutti ma è come dare in mano una supercar ad uno che ha fatto il corso da pilota e a uno che il corso da pilota non l'ha fatto quello che il corso da pilota non lo ha fatto si schianta contro il muro o alla peggio non sa neanche come accendere l'auto uno che ha fatto il corso da pilota con quell'auto lì ti fa magari il record della pista e il paragone lo stesso se non hai studiato puoi comunque avere un immobile su airbnb assolutamente lo puoi comunque caricare lo puoi avere ereditato lo puoi aver comprato per pura fortuna sei riuscito a convincere un proprietario ma se poi non hai le giuste competenze per valorizzarlo ti bruci solamente quell'opportunità lì e tutto sommato poi l'investimento per imparare a formarsi è ridicolo perché parliamo comunque di una cifra esigua rispetto al potenziale di questo business una roba che un mese due mesi esagerare tre mesi di lavoro e ti sei ripagato il costo del corso ma poi ti rimane per tutta la vita questo genere di competenze e a quel punto una volta che ti sei ripagato il corso dopo un due tre mesi è tutto guadagno tutto grasso che cola da qui al resto della vita e non è che poi ogni immobile devi rimparare il corso ristudiare il corso riacquistare il corso no in realtà una volta che impari quello lo puoi applicare per letteralmente qualsiasi tipo di immobile in qualsiasi parte del mondo qualsiasi tipologia di casa che sia un appartamento o una villa detto ciò tornando a parlare delle piattaforme perché le percentuali di cui abbiamo parlato prima sono comunque meritate beh perché se dovessimo metterci a fare pubblicità servizio clienti marketing eccetera ci costerebbe molto di più di quello che in realtà poi noi paghiamo a queste piattaforme che sono airbnb e booking quindi ne vale comunque la pena però è importante come ho detto in un video precedente pianificare bene l'investimento che stiamo andando a fare o l'immobile che stiamo andando ad acquisire perché se uno acquisisce senza cognizione di causa senza analizzare il costo di affitto se parliamo di sublocazione eccetera 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 ci sta che poi la provvigione che diamo ai portali possa essere elevata ma se uno invece si fa i calcoli prima di partire beh è impossibile sbagliare o comunque è molto poco probabile oltre a questo continuando a parlare di piattaforme è bene sapere ed essere a conoscenza del fatto che ci sono dei parametri ben imprecisi che influenzano l'algoritmo delle piattaforme come airbnb e booking ad esempio il numero di recensioni la media delle stelline che abbiamo su airbnb si va da 1 a 5 stelle su booking si va da 1 a 10 come valutazione numerica il numero di prenotazioni che ho ottenuto in passato il numero di click cioè di mille persone che guardano l'annuncio quante hanno cliccato se lost ha messo tanti filtri se lost ha completato tutti tutti i campi a sua disposizione ad esempio tantissime persone lasciano interi campi vuoti e hanno una descrizione di due righe questo non va per niente bene il titolo le fotografie quante foto sono che non devono essere né troppe né troppo poche insomma ci sono tanti parametri di cui tener conto come ho detto in precedenza ci sono le piattaforme principali che sono airbnb booking ce ne sono tante secondarie essere su tutte le piattaforme non costa nulla però è importante essere a quel punto sgamati e sincronizzare tutte queste piattaforme nel senso evitare l'over booking ovvero il fatto che una stessa data esempio 31 dicembre venga prenotata su più piattaforme perché poi lì nascono dei problemi abbastanza importanti quindi io personalmente lavoro principalmente con airbnb booking ci sono tante piattaforme secondarie come ho detto in precedenza è molto raro che portino prenotazioni ma se volete provare più piattaforme potete farlo l'importante che sincronizziate tutti i calendari in maniera tale che evitiate l'over booking poi c'è anche da dire che un'altra rottura di scatole è che chiaramente se fate una modifica ad esempio aggiungete un una stufetta poi questa modifica dovete andare manualmente ad impostarla su tutti gli annunci quindi su airbnb su booking e anche sugli altri o se al contrario iniziano a fare dei lavori e montano un'impalcatura all'interno del vostro non all'interno all'esterno del vostro immobile dovete segnalare questa cosa altrimenti un ospite potrebbe arrabbiarsi ricordatevi ovviamente di aggiornare sia con le cose belle sia con le cose meno belle tutti gli annunci altrimenti uno magari prenota su vrbo vi eravate dimenticati di scrivere che c'era l'impalcatura arriva l'ospite l'ospite è insoddisfatto vi lascia una recensione negativa e magari richiede anche un rimborso alla piattaforma tutto questo per una dimenticanza circa una segnalazione che dovevate fare su questa piattaforma quindi mi raccomando fate attenzione se decidete di dedicarvi ad ulteriori piattaforme dovete dedicarvi al 100% senza dimenticarvi nulla e senza trascurarle e ricordatevi alla fine che l'importante è avere i calendari pieni quindi se voi riuscite a riempire solo con airbnb o con airbnb e booking siete pieni avete un tasso di occupazione soddisfacente o del 100% è assolutamente inutile essere su 100.000 altre piattaforme chi se ne frega noi siamo qui per guadagnare e avere calendari pieni quindi se non abbiamo i calendari pieni ok proviamo altre piattaforme ma se avete già i calendari pieni che vi importa di andare a pubblicare l'annuncio anche su altre piattaforme tant'è che poi io alcuni immobili ce li ho effettivamente solo su airbnb ancora il giorno d'oggi e tante persone della nostra community continuano ad avere i loro immobili solo ed esclusivamente su airbnb quindi non è indispensabile assolutamente pubblicarli su tutte le piattaforme se avete un quantitativo soddisfacente di prenotazioni se non vi soddisfano allora andate anche su altre piattaforme assolutamente bene per questa lezione è tutto ricordatevi sempre di curare i vostri annunci ricordatevi che le valutazioni sono importantissime quindi se un vostro annuncio ha delle recensioni negative fate qualcosa per sistemare questa situazione in bmb academy spieghiamo come si possono rimuovere le recensioni spieghiamo come rispondere a queste recensioni spieghiamo come quando eventualmente ha senso rifare un altro tipo di annuncio e se volete vedere dei contenuti gratuiti che abbiamo preparato a tema affitto breve trovate tutto quanto qua nella descrizione di questo video iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video preziosissimi in ambito affitto breve e non solo e ci vediamo nel prossimo video qui su youtube a presto